Siamo qui oggi per dire che a tutti i lavoratori e le lavoratrici che garantiscono in realtà la nostra sicurezza hanno bisogno di avere riconosciuti i loro diritti e i loro trattamenti. C'è un problema salariale, il contratto è scaduto da tre anni, le offerte che sono state avanzate sono un terzo dell'inflazione reale che c'è stata e quindi abbiamo il problema di difendere il potere d'acquisto e di garantire naturalmente un salario dignitoso. Abbiamo un problema che si chiama assunzioni e occupazioni perché siamo sotto organico e abbiamo un problema che riguarda anche la qualità del lavoro, la qualità dei servizi sapendo che ci sono fenomeni che riguardano sia le guardie penitenziarie sia più in generale le altre forme di polizia che richiamano anche un problema di qualità del lavoro, stanno aumentando i suicidi e credo che questo sia un segnale che va assolutamente affrontato. Il messaggio che vogliamo dare naturalmente come sindacato è che questi sono lavoratori e lavoratrici che devono avere le stesse tuteli e gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori e che il tema della sicurezza per ognuno di noi passa proprio attraverso il fatto che sia riconosciuto naturalmente questo lavoro. Pensiamo anche che una serie di provvedimenti che il governo ha fatto in realtà rischiano di indebolire la lotta contro la criminalità organizzata, penso alle questioni delle intercettazioni, penso a una logica sbagliata in realtà di attacco anche alla magistratura e ai nostri organi di difesa e penso che da questo punto di vista sia assolutamente importante che il governo cambi la linea e la posizione che finora ha assunto a partire da una vera trattativa che garantisca tutele e diritti sindacali a tutte e a tutti i lavoratori in divisa di qualsiasi settore, di qualsiasi comparto.